Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere quali ricompensi ci mostra la nuova campagna, che è Orlo della Guerra, ok? Allora, Orlo della Guerra è la nuova campagna del... non lo so, penso Menzo Beranzan. Ah no, ok, questa è una roba a parte. Allora, questa è la campagna del Menzo Beranzan, e qui... Allora, abbiamo questo qui, che sicuramente fa parte del cambio aspetto, anche questo. Quindi stivali, testa, perché cerchietto, e questo sarà armatura, non so, sia la tunica, ok. Quindi qui sopra set moda, e qua pacchetto scelta emblema di Menzo Beranzan, quindi sarà uno di quelli nuovi. Poi, qua sotto abbiamo la particella mitica, qua abbiamo 500 lingotti tarmalune, e qua invece abbiamo 50 aggettoni potenziamento cavalcatura, ok. Ok, i Blasfemi e i Bregan, dona i Bregan d'arte, questo che roba è? Ok, qui sono i punti dono, non so quanti, probabilmente 4, credo, no? Forse uno, non lo so. E qui 30 aggettoni potenziamento cavalcatura, ok. Andiamo a vedere anche il negozio. Allora, qua abbiamo, come dicevo nel video scorso, la chiave della nuova trial da 10, la mascotte, i Gliffy, contro... Riduce il danno dell'8% contro i Demoni, ok. E questo invece, potere volontario incontro ai giornalieri, infliggono l'8% di danni in più contro i Demoni, ok. Poi qua guadagno di diamanti astrali e grezzi. Andiamo a vedere gli emblemi. Ok, come dicevo, questi qui verdi sono uguali a questi qui blu, a differenza che questi sono di livello oggetto più alto. Qui ci chiede la valuta Zecca di Menzo Beranzan, che si prenderà sicuramente facendo le quest della nuova mappa, uccidendo i boss della nuova mappa, robe così. Tutte queste valute probabilmente le prenderemo là, uccidendo nemici e facendo cose. Completando quest. Come dicevo, questo è l'emblema dell'equilibrio, evasione critica, deviazione per il tank, luminosa da precisione, precisione e colpo critico per il DPS, e questo invece è illuminato del ritmo, severità critica, guarigione in uscita per l'Ealer. Poi abbiamo i tre incantamenti, nuovi, con la statistica doppia, nuovi tra virgolette, perché come dicevo, già in passato avevamo questi emblemi con la statistica doppia, quindi non mi stupirebbe, essendo nella mod 26, metterebbero gli incantamenti con la statistica tripla, poiché stiamo facendo come i gamberi, stiamo facendo i passi indietro. Comunque, in ogni caso, qui, acqua marina, non comune, statistica d'attacco, precisione e severità, difesa, evasione, nello slot di difesa, evasione e deviazione, nello slot di utilità, bonus controllo, guarigione in uscita. Questo invece, zaffero non comune, nello slot di attacco, vantaggio colpo critico, difesa, consapevolezza e intensità della deviazione, e utilità, forte resistenza al controllo. Qua, invece, abbiamo il rubino, non comune, attacco, potere e precisione, difesa, abbiamo difesa e deviazione, e utilità, forte, guarigione ricevuta. Ok, questi invece, infine, sono gli incantamenti, arma, barra armatura, allora, 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 abbiamo il lampo non comune, che questo è da DPS, se non mi ricordo male, i tuoi attacchi ti conferiscono, un cumulo di carica del fumile, per 10 secondi, ogni cumulo conferisce un aumento, di tot percentuale, 0,1 a verde, e, e ci conferisce colpo critico, e precisione, massimo 3 cumuli, i colpi critici, infliggono 3 di danni, in proporzione extra, ovviamente a verde, e il mitico sarà di più, questo effetto può essere attivato, una volta ogni 10 secondi, equipaggia, aumenta i danni del 2%, sempre a verde, questo è dell'healer, fortificazione splendente, non comune, aumenta la riduzione, dei danni, quindi riceviamo meno danni, quando usiamo una cura, su un singolo, quando usiamo una cura singola, su un bersaglio in combattimento, il bersaglio ottiene, 3% di movimento, e l'1% di danni, subiti in meno, per 4 secondi, tutto va verde, chissà mitico quanto va, chissà, dopo ci guardiamo, allora, maledizione vivente, non comune, questa è la tank, aumenta la riduzione, dei danni, quando viene colpito, al 10% di probabilità, di piazzare una maledizione, sul bersaglio che ci ha colpito, per 10 secondi, friggendo danni in proporzione, ogni scatto di danni, inflitto da maledizione, ogni tick, ogni proc, ogni attivazione, di questa maledizione, aumenta la minaccia, ok, poi qua, qui vabbè, abbiamo la roba mia, qui mi dice solo da ladro, otteniamo l'1%, questa è l'armatura, otteniamo l'1% di critico, per ogni giocatore, nella nostra squadra, e quando siamo in movimento, 5% di gravità critica, questo l'avevamo già visto, qua invece, quando la resistenza sopra, al 75%, la precisione aumenta, del 7,5% la testa, ok, le braccia, 375 potere, queste funzionano come, quelle di, di vosso HC, poiché ci dà potere, mentre, se vi ricordate bene, nel video, che ho fatto, giocando su PC, per esempio, sul guerriero, dava, precisione, questo, quando procca 20 volte, ha un totale, di 7500 potere, gli stivali, invece, se siamo, a 20 piedi o meno, di distanza, dal bersaglio, la nostra, severità critica, aumenta del 5%, e quando siamo, più lontani di 20 piedi, il forte, aumenta del 5%, ok, allora, la roba valida, qui sono, la testa, le braccia, è un po' tutto valido, sono, sta roba, non mi convince, perché, vabbè, sì, noi siamo ladri, abbiamo il cammino della lama, potremmo anche equipaggiare, la star matura, che ci dà 5%, di severità critica, in movimento, ma, le altre classi, non lo so, e, e qua, vabbè, gli stivali, a me non mi piacciono, no, gli stivali sono buoni, scusate, perché tanto alla fine, siamo sempre attaccati, e la gravità, la severità critica, aumenta del 5%, quindi andiamo a guadagnare, in movimento, qui 5% di severità, più 5%, 10%, 5% di colpo critico, ok, quindi togliendo l'armatura, perdiamo un 10%, un 5% di severità, e lo guadagniamo, sul colpo critico, ok, quindi, tendenzialmente, dovremmo andare, a usare, o, la tempesta selvaggia, come pozione, che ci dà 5% di severità, per riguadagnare, il 5% di severità, che perdiamo, da ladri, togliendo l'elmo, del 10% di critico, perdo, perdo un 5% di critico, qui, guadagno potere, 7500, forse potrei, dovrei andare a togliere, ecco, se equipaggio questi, probabilmente, dovrei, dovrei andare a togliere, potere, non so da dove, perché io, in attacco, non ce l'ho, però, tipo da qua, di emblemi, non lo so, anche perché qui, ci dà percentuale, il potere del compagno, quindi, non so, vediamo, 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 in ogni caso, questo è, ciò che ci dà, la nuova campagna, di menzo beranzano, ok, poi abbiamo questa qua, l'orlo della guerra, che è un'altra, non so, mini campagna, ok, col battle pass, abbiamo tre stadi, tre stati, strati, non so, tre cose, allora, qua, nella prima, allora, io, il battle pass, non lo prenderò, quindi, le ricompense sotto, non le guadagnerò mai, che sono tutte queste sotto qua, di tutte queste tre, e quindi, guadagnerò solo quella sopra, allora, senza battle pass, andiamo a guadagnare, una, no, una pietra della salute mitica, tre pergamene della vita di massa, la pietra della salute mitica da 200, pacchetto scelta equipaggiamento del compagno da livello oggetto 1500, e poi cavalcatura leggendaria non account, ok, questo per la prima parte della campagna, seconda parte, due chiavi incantate, forziere astrali, forziere astrali, che c'è il cervo e la gigantessa, qua, 15 gettoni cavalcatura, e infine, pacchetto scelta manufatto epico, bastone di fiori, di ciondo del serpente, anello di trovia, robaccia pura, pura robaccia, secondo me, e, andiamo a vedere la terza parte, due chiavi incantate, 20 gettoni errori di compensa, per aprire i forzeri finali del dungeon, la particella mitica, questa ci piace, e infine, 5 frammenti di potenziamento maggiore, ok, le cose rilevanti di questa roba, sono queste due, per me, che sono endgame, no? Tutto il resto, vabbè, due chiavi incantate, lo considero uno sputo, un forziere astrale, mi fa ridere, questi, vabbè, 15 gettoni, buttati lì, giusto per dare un contentino, la pietra da salute, uguale, un altro contentino, tre pergamene della vita di massa, buttate lì, a caso, scelta del, del, oggetto del compagno, a 1005, buttato lì, a caso, che tanto, ci si prende gli oggetti, leggendari a 1006, dalla compagna, del Nordark, e qui, cavalcatura, buttata a caso, bisogna vedere, se si può vendere, perché se si può vendere, magari ci facciamo qualcosina, ma dubito, che si possa vendere, sarà probabilmente, vincolata all'account, e queste sono le ricompense, per chi non shoppa, andiamo a vedere, le ricompense, col Battle Pass, praticamente abbiamo, una particella, quale scente, gettoni error, ricompensa 20, scelta compagno, account, questa è tanta roba, Mistagogo, Soriadel, Pseudodrago, Pollabissale, Sacerdotessa di Sune, allora, tutta roba, che è un po' nerfata, soprattutto, lo Pseudodrago, Soriadel, non mi ricordo, che cos'è, forse, Mistagogo, rimane buono, non lo so, andiamo a vedere qua, qui abbiamo, 10 frammenti, potenziamento compagno, frammenti, di potenziamento, maggiore, no compagno, che servono per raffinare i collari, e questa è la prima parte, andiamo a vedere la seconda, due forzieri astrali, e, con il primo, senza il battle pass, solo uno, ci sta, perché spendono soldi veri, per chi non ha già gli zen, ovviamente, qua, altro pacchetto, scelta mascotta, questo scelta mascotte, pulcino abissale, macchina di fuoco, mascotte cavallo scheletrico, stormo di pipistrelli, draco imperiale d'arabbia, u, amber arc, turbine arcano, chiocciola mazzafruso costiera, mascotte bullet, corazzato, e pacchetto scelta emblema leggendario, questa casa contiene un oggetto a tua scelta tra questi, quindi, probabilmente, io, se, se fossi, se potessi avere, prendere questa ricompensa, tutte ste cavalcature mitiche, leggendarie, non mi interessano, ma neanche, sono mascotte, neanche, cavalcature, quindi andrei, le mascotte leggendarie, non so, se proprio no, e andrei a prendere quindi, l'emblema leggendario, qua, quattro chiavi incantate, altra particella mitica, quindi già ne prendono due, mentre, noi solo una, che non usiamo il battle pass, in sostanza è tutto il doppio, mi sa, quelli che prendono il battle pass, rispetto a chi non ce l'ha, qui 15, gettoni compagno, nella terza parte, cavalcatura, qua, pacchetto scelta a mezzo balanzano leggendario, contiene una certa tua scelta, tra il bullet corazzata account, cavalcatura, golem d'ossal di drago account, cavalcatura, tutta leggendario, tirannosauro leggendario, sempre l'account, pietra icosa edrica, ad account, leggendaria, direttamente leggendaria però, quindi, dovremmo solo fare, questa non è male, se casomai, tornassero di moda, i compagni da crescimento, poiché questa è già leggendaria, e per portarla a miti, con questo compagno, basteranno solo 150, gettoni potenziamento compagno, poi, abbiamo il cacciatore di drag account, a viola, e il minsk, questo pacchetto, non è affatto male ragazzi, e poi abbiamo 5 pergamena da vita di massa, e infine la borsa conservante 72 slot, questo è ciò che noi guadagniamo, tramite il battle pass, tutte queste cose qui, le completiamo facendo code, facendo dungeon casuali, sia la rack, che il dungeon, l'RDQ, la prima coda casuale piccolina, qui dobbiamo andare a fare, un isolamento al mezzo un beranzan, per completarlo, ne dobbiamo completare 3, non so se è un eroico, ma penso di no, avrebbe scritto eroico, e poi qua, altre code casuali, la schermaglia e l'RTQ, questo qui, l'isolamento di mezzo un beranzan, praticamente dovrebbe essere, una challenge, per così dire, dove si fa un gruppetto, e si va a sfidare, un rider, se non mi ricordo male, che sono quei ragni, giganti, tipo boss finale di M.T.O.S., o del Tempio del Ragno, ma del Tempio del Ragno, che qui sarà considerato il boss, nella mappa del mezzo beranzan, penso sia quella la sfida, poi, e queste sono le campagne, volevo vedere quanto costa, il compagno nuovo mitico, vediamo se lo troviamo, alla compagno Blasfemo, tanto qualcuno l'avrà già droppato, Blas, ok, eccola, 3 milioni, ammazza, 3 milioni è tantino, ok, e, mentre la cavalcatura, è bon, che ho droppato nel video scorso, è bon, 3 milioni e 100, ok, e ha 4 slot emblemi, ok, 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 va bene, e niente ragazzi, queste sono le varie ricompense, della nuova mod 25, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, lasciate un like, e ci sentiamo al prossimo video, ciao, 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 Grazie.